L'antica tradizione popolare di portare doni al Papa durante il periodo natalizio viene fatta rivivere nella terza domenica dell'Avvento dal corteo storico Advenimus Solium Petri, inserito nell'ambito della manifestazione Natale Italia, organizzata dall'Accademia Nuova Ellade, con la partecipazione dei sodalizi Comitato per il Tevere e Tavolo di Solidarietà. Il corteo storico ha un prologo costituito dall'evento Fiume di Pace, una suggestiva discesa del Tevere, da Ponte Duca d'Aosta a Ponte Sant'Angelo, dell'imbarcazione della Protezione Civile, con la quale vengono trasportati doni, muschio tiberino e opere artistiche offerte dalle associazioni di Via Margutta da recare al Pontefice. Ad attendere la barca sulla sponda del Tevere, i volontari della Protezione Civile del gruppo Ares Sant'Emne, che dopo le operazioni di sbarco si uniranno ai gruppi folcloristici dagli sbandieratori di Marino e di Lanciano, per dar via al corteo che si snoderà dalle mura di Castel Sant'Angelo fino a Piazza San Pietro. Buona accedenza! Buongiorno a PONTRE! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.